Io credo che vengano fuori dei numeri interessanti da questo primo confronto. Per esempio, un numero che io voglio citare è che in Abruzzo noi abbiamo, in questo momento, almeno nelle parti solari delle giornate che corrono, 200.000 persone che la mattina dedicano cuore e cervello per prepararsi al futuro. Sono quelli che si sollecitano per prepararsi alla cittadinanza attiva, dai bambini agli studenti universitari. Questo è il primo numero che ci scuote a pensare a fare qualcosa in più, in maniera tale che domani diventino percepienti di reddito e non ammortizzatori sociali o destinatari attendisti di premure di sostegno solidale. Abbiamo un altro numero in Abruzzo interessante, le 129.000 imprese attive. Davanti a questi due numeri noi abbiamo altri numeri che sono le esperienze che si conducono altrove riuscite di avvicinamento del mondo della scuola al mondo del lavoro. E poi abbiamo delle pratiche formidabilmente educative che sono state poste in essere da alcune aziende di questa regione. Le due aziende che sono qui non sono state prese a caso. Sono due aziende, primo, che fanno fatturato, secondo, che fanno utile, che non fanno l'inseguimento delle poltrone nei consigli di amministrazione, che è una malattia che riguarda anche una certa dorsale imprenditoriale associativa. E poi sono aziende che presso di sé ospitano esperienze di strette di mano, di sinergia tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Noi dobbiamo organizzare in maniera tale che le politiche attive non siano sempre condannativamente temi di conventi, ma le politiche attive siano capaci di organizzare la trasformazione della realtà. Qual è l'idea che io voglio qui illustrare, ma che diventerà presto un testo di legge e il direttore del centro Tedeschini sarà il garante dell'identità di chi l'ha pensata questa iniziativa, di chi ha diritto di presentarla, farla provare e poi intestarsi anche in netto. Noi dobbiamo fare in modo che diventi una buona pratica questo incrocio tra mondo del lavoro e mondo della scuola. E le buone pratiche diventano diffusive se ci sono, pensando al passato, risorse finanziarie che incentivino. Questa è una regione che nel quinquennio 1985-1990, perché non parlo solo del presente e questo lo dico ai tanti che si arrampicano all'insegna della casualità per essere tutto nel presente ma dimenticando il passato. In un quinquennio magico di questa regione, 1985-1990, ha distrutto questa regione 200 miliardi di lire in formazione, io chiamo, solitaria, palo verticale. Cioè una formazione che al massimo è servita a coloro i quali ci hanno lavorato e mi auguro che ancora adesso ci stiano a lavorare. Questa è una regione che in più delle volte nel suo essere potere istituzionale ha assistito al buono che si è fatto all'interno del buono. La ATER è un giacimento eccezionale, produce luce, ma la Walter Tost, che viene da 50 anni di vita con la tuta sporcata di olio dei meccanici, ha organizzato due edizioni di master interamente autofinanziato all'indirizzo di giovani delle famiglie popolari delle nostre contrate, contadine di questa regione. Bene, noi come dobbiamo fare sapendo che noi ci sono fondi pubblici per incentivare questo incontro tra scuola e mondo del lavoro? Perché vedete anche alcuni piccoli impulsi di derivazione europea, per la lentezza che c'è, sono impulsi finanziari assolutamente privi di capacità di scuotimento. C'è un altro modo, direttore, caro ingegner Fossadaro, caro direttore della Fata, perché sei qui caro Roberto Campo e tutti quanti voi che siete anche ad ascoltare, quella che io chiamo la premialità. Vediamo che significa. Se io come regione assumo nella mia dotazione normativa che non è possibile partecipare a bandi di provenienza regionalista senza che l'impresa che vuole partecipare possa esibire un certo numero di esperienze, di tirocini o comunque formule che consentono l'incontro tra mondo del lavoro e mondo della scuola, è chiaro che l'impresa si sente stimolata. Entro nel merito. Noi dobbiamo fare in modo che almeno in Abruzzo ogni anno si tengano 10.000 opportunità di incontro tra mondo della scuola e il mondo del lavoro. Andando oltre la stagione dello stimolo finanziante a che questo accade, dobbiamo determinare la politica della premialità per cui tutti i bandi tipici propri della regione destinati al sistema delle imprese possono vedere la partecipazione delle imprese e la condizione che l'impresa tra i propri reggi di accesso possa esibire un certo numero di esperienze di incontro mondo della scuola, mondo del lavoro. Questo richiede una modalità procedurale per progetto da parte della pubblica amministrazione. Non basta fare riunioni a centinaia e centinaia nell'arco dei mesi che trascorrono nella vita istituzionale della regione. Ogni tanto si convocano, torno a un tavolo, fanno la riunione e dicono vabbè tutto sommato, le cose procedono. Perché dico questo io? Ma l'incontro tra mondo della scuola e il mondo della formazione è una necessità soltanto della forza lavoro o della potenziale forza lavoro? O invece non è anche una necessità del mondo del lavoro? Cioè nel linguaggio sindacale quando si dice mondo del lavoro si fa riferimento marxianamente al mondo della forza del lavoro. La necessità di attrezzare e di attivare queste esperienze di incontro interessa sia la potenziale forza lavoro, cioè le persone, le risorse umane, sia i datori di lavoro. Quando la Walter Tosto per esempio taglia come il burro i mercati internazionali dell'India, della Russia, dell'America e taglia come il burro questi mercati che ci entra da protagonista e perché ha le abilità all'interno, quelle realizzative ma anche quelle linguistiche, quelle organizzative. E come le ha trovate la Walter Tosto? Cercando chi aveva voglia di fare e portandola dentro di sé, in questa specie di atene delle bravure che è quell'azienda. Lui stesso mica viene dalla famiglia Olivetti, forse da padre padre non medico, è stato preso lui 12-13 anni fa come un giovane ingegnere in cammino e adesso è diventato un gigante. Ma c'è un ragazzo di Manopello Scalo allo stesso modo straordinariamente bravo, ma vi dico un ragazzo che ha cominciato da un tirocino dentro la Fiat, direttore, si chiama Alessandro Di Nardo, è il numero 3 della Fiat, sta ad Atlanta, è bravissimo. Anche lui intercettato attraverso formule graduali di accesso. Perché io dico che è un'opportunità per le due parti della mella? Vediamo di ragionare senza queste opportunità. Qual è la modalità attraverso la quale un datore di lavoro cerca la bravura, trova, incontra la bravura? Il colloquio conoscitivo che dura 13 minuti? O dall'altra parte, per il ragazzo, avere la possibilità di essere verificato sei mesi, 180 giorni, è un'occasione oggettiva di verificazione. Vedete, se si escludono queste, Campo le ha chiamate politiche attive del lavoro, le chiamava così Giugni, Don Accatene e anche il danzante ministro del lavoro del 1986, David Keynes, nel famoso piano decennale del lavoro. Queste sono politiche attive del lavoro. Lui ci pensò l'Agenzia per l'impiego che poi diventò iperstatalista e iperamministrativistica. Noi dobbiamo immaginare una flessibilità nel concepire questo avvicinamento. Questa provincia, nel 1996, grazie a un grande funzionario del Ministero del Lavoro, Francesco Colaci, concepì, direttore, le borse di lavoro, prima che diventassero quelle sguaiature della campagna per cui era lo Stato che stabiliva il chi veniva preso. Invece c'era il protagonismo della scuola che mandava i più meritevoli al vaglio delle imprese, senza che si costituisse un rapporto giuridico perfezionato di lavoro. E su questo lancio un'altra idea, direttore, e vedi tu se la vuoi lavorare ulteriormente. Ma perché i cantieri dell'Agenzia non potrebbero diventare luogo economico, amministrativo, situazionale e lavorativo per ospitare tirocini? Lancio anche qui una provocazione. Per ogni 80.000 euro di lavori, di ricostruzione dei comuni del Cratero, ospitare un giovane geometra è uscito con merito. È chiaro che non basta, direttore, la stanchezza redazionale cartacea di una delibera che esce da questa giunta regionale. C'è bisogno di una visione progettuale di quello che si deve fare. Nel 1976, a Bologna, una signora bravissima e innamorata della sua funzione, Aureliana Rubenici, concepì nelle serre comunali di Bologna le prime forme di incontro tra mondo del lavoro e il mondo della scuola. Loro avevano le municipalizzate. Insomma, noi dobbiamo organizzare qualcosa, perché altrimenti si presenta come immorale questa distanza, questa separatezza e le formazioni fatte nelle scatole autoreferenziali non danno niente, non danno nulla. Noi dobbiamo assolutamente consentire che un ragazzo in uscita dal sistema formativo scolastico tradizionale guadagni delle abilità aggiuntive. Per rispondere a quelle domande nicidiali che vengono fatte dai capi del personale a ragione, tu che hai fatto oltre ad avere studiato? Qual è l'esperienza che tu hai potuto aggiungere nel tuo curriculum? Insomma, all'interno del luogo del lavoro, quando ci entra una potenziale forza di lavoro, comincia a concepirsi come attitudine realizzativa. E noi dobbiamo fare questo, perché se non lo fa chi ha la tutela della premura pubblica, della decisione pubblica, e io su questo mi ci voglio mettere, mi ci candido per questo, chi è che rimane a farlo questo? Il padre, la madre, il patrimonio relazionale alla persona, per cui se uno ha il padre che fa il farmacista o il notaio ce la fa ad avvicinare quel potenziale datore di lavoro, altrimenti non viene fuori la circostanza. Allora io quello che voglio proporre, lo presenterò, una proposta di legge regionale, in maniera tale che risulti all'inchiostro pubblico della regione, una legge che realizzi la premialità, un'impresa abruzzese, non potrà partecipare ai bandi regionalisti se non esibisce tra i requisiti in possesso quello di avere attivato un certo numero di esperienze di avvicinamento del mondo della scuola e del mondo del lavoro. Secondo, e su questo per esempio, banca fumoce e sensibile, e io spero che si possa fare nei comuni del cratere lanciare una specie di grande officina educativa e formativa. Quanto c'è da apprendere lì? Quanta prossimità realizzativa si può rinvenire lì nei comuni del cratere attorno a un miliardo e mezzo di euro spenditi? Mi si è detto, e mi avvio alla conclusione, attivare esperienze di incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro determina dei costi all'interno delle aziende. Per esempio il tutor significa una risorsa umana che sta lì a organizzare, lo dico con un termine del mio patinone linguistico, sovraintendimento, attività di accompagnamento, magari anche sorveglianza, indicazione, incoraggiamento. Perché non immaginare direttore? Noi abbiamo l'obbligo di recuperare tutti gli spazi possibili per chi utilizza il potere pubblico e ha la concentrazione della norma. Perché non immaginare che quelli che sono usciti dal sistema del lavoro, i pensionati ancora in capacità di produzione, non possano essere loro che danno una mano nell'organizzare questa grande stagione che si può fare in Abruzzo su questo fronte. Io conosco, ho la FATER davanti agli occhi, ma conosco gente in gambissima che è uscita dall'attività lavorativa, quella che produce beni rinvenibili della FATER, che potrebbe ancora dare una mano in un circuito di questo tipo e ha anche cultura della responsabilità sociale. Insomma si può fare, io lo metterò per iscritto questo. Quello che è certo è che non va bene come siamo messi. Direttore, noi abbiamo tre emergenze, politiche attive sul versante della forza lavoro, politiche attive sul versante delle imprese, noi dobbiamo semplificare la vita delle imprese, semplificare davvero. Noi arriveremo quasi alla dannazione, abbiamo un patrimonio normativo che è modernissimo nel semplificare la vita delle imprese e non accade nulla. E poi dobbiamo organizzare anche politiche attive sul versante dei territori, rendere i territori su misura della vita delle imprese. Oggi il tema è quello della forza lavoro e vi ho detto qual è il mio pensiero. Allora io direi che adesso vediamo l'intervento di erossidone. Grazie. 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 Buon pomeriggio. Grazie. Grazie a Marco per l'invito. Grazie in particolare a Luciano Marco. Mi dispiace davvero di non essere potuto intervenire e di non stare a questo pomeriggio a più perché Gli impegni istituzionali effettivamente sono troppi. Il tema che avete scelto è un tema molto insight80 tante, a cui ho dedicato tanto tempo anche in un clima di essere sottosegretta e è d'accordo tra la scuola e il generale l'apprendimento, la conoscenza e il lavoro, soprattutto tra i nostri ragazzi, soprattutto nelle zone complicate del nostro paese, ma in generale. Proprio qualche giorno fa, nella commissione settima, la commissione che si occupa di tutta la scuola della cara del deputato, il parlamento della Repubblica, l'ho illustrato, anche preparato, perché ho la delega, una lunga relazione sul fallimento formativo del nostro paese, sulla distensione scolastica. Noi perdiamo una quantità enorme di giovani e vitali risorse per un'assenza di politiche oculate, un'assenza di durare troppo tempo. Siamo preoccupati di tutto il tempo. Quindi questa iniziativa che mette insieme è la prospettiva del lavoro, le difficoltà di lavoro, e la prospettiva è anche, e non le difficoltà della scuola, è un'iniziativa che coglie l'insegna, un'iniziativa che è al centro della grande questione, non solo della grande questione, ma della scuola. Cevato Milani, il problema principale della scuola sono i ragazzi che per lei ha avuto oggi in questo tipo della questione centrale. Ma la questione è dello sviluppo, dello sviluppo in generale, dello sviluppo utile. In realtà con l'abruzzo, così come in altre regioni, noi non possiamo pensare sostanzialmente che andare avanti senza un forte e un volato intelligente, innovato, investimento, insapere, proprio a cavallo grano, scuola anche l'abruzzo. Questo è un'iniziativa. La prima questione è questa. Noi dobbiamo ripartire dalla scuola. La scuola deve fare meglio nel suo lavoro. Abbiamo una grande opera di imparazione. C'è stato un disinvestimento, è stato prima ancora che va a cittare un disinvestimento culturale, poi politico nella istituzione. Non c'è stato noiato, noiato sia con la nostra tradizione, la nostra tradizione unità, con gli ultimi 150 anni di vita pubblica italiana e con tutti i paesi avanzati, non solo i paesi europei, ma tutti i paesi europei. Nella nostra storia negli ultimi 150 anni, una recrescita di investimenti in istituzione, come c'è stato dal 2016, 2007-2010, non è avvenuta male, tra le cose c'è stata una forte crescita, negli ultimi due anni della guerra mondiale per la seconda guerra mondiale. Poi nei primi anni dell'Italia dell'Italia, l'Italia è un paese tolto, abbiamo investito in istituzione. Durante la prima guerra mondiale abbiamo continuato a investire in istituzione. Tra le due guerre abbiamo continuato a investire in istituzione. Io vengo in una famiglia antifascista, ma anche il fascismo ha continuato a investire in istituzione. L'istituzione della Repubblica ha investito enormemente in istituzione. Un'altra punta di investimenti in istituzione, proprio nel momento in cui la crisi e la concorrenza globali ci spingono a dover investire in istituzione, che è stata una ferita da cui infatti cosamente ci stiamo riprendendo. C'è stato un giro di nuove. Il governo del presidente eletto, il ministro Carrozza, hanno ricominciato a investire, ma abbiamo investito per l'attività di 4. Riprendere la sanità è gravissimo. Dicevo, è in noi a Poi, è in contraddizione questa politica che dobbiamo recuperare. Dobbiamo riparare, questo chiaramente. Questa politica è in contraddizione anche con tutte le politiche dei paesi, in più sviluppati, in livello non solo Europa, ma il Brasile, la Corea, il Giappone, gli Stati Uniti, l'India, il potere continuare. Quindi questa questione è fondamentale. Ripartire dalla scuola. E nel ripartire dalla scuola, ripartire dalle competenze rinunciabili, che si iniziano acquisire consolidare, che hanno appunto appunto la scuola. Poi, che veniamo in più al centro del tema, ce lo dicono i tanti che anche si è saluto per l'accomandazione dell'Ostio, sono dato alla conferenza di Stato, il ministro, dei ministri di tutti i paesi Ocse. Il lavoro che i sistemi informativi fanno, tra l'apprendimento a scuola e l'apprendimento dei luoghi di lavoro è l'elemento, è la letta decisiva per lo sviluppo, quindi anche per la cittadinanza legata allo sviluppo. L'apprendimento com'è? L'apprendimento nel sapere fare delle cose, nel sapere cosa del teorico c'è dietro al sapere fare delle cose e al contempo conoscere bene il proprio posto come cittadini in mezzo agli altri cittadini. Questa è la questione non è che, lo dico io, perché sono sottosegretario, perché amo questi temi, ci tengo alla scuola e non lo dicono solo voi, non ho tante organizzazioni, tante associazioni come anche la Fondazione Europa Prossima che ha organizzato questo posto a quel momento. Lo dice, diciamo, tutta la cultura internazionale e ci tengo a precitare tutta, vuol dire che sia il pensiero liberale, che il pensiero socialdemocratico, cioè su questo sia pure con accenti diversi, c'è assoluta convergenza, c'è una limitante. Quindi è evidente che questo tanto che si possa passare dalla scuola e dall'apprendimento a scuola all'apprendimento fuori dalla scuola e viceversa internazionale. Abbiamo già delle quali pratiche, abbiamo diverse esperienze in tutti i territori in questo senso, bisogna valorizzarli, bisogna ottimizzarli i risultati, sarei venuto a dire quali modelli sono più visti con favore in questo momento dalla letteratura internazionale, ma è importante in questo momento dire questo. La scuola, finita la scuola di classe, si può apprendere oggi solo se questo apprendimento non sta chiuso dalle nuove scuole, ma va estramenta fuori dalle nuove, verso il mondo, verso le imprese, verso l'associazionismo, verso la ricerca internazionale, sui modi di laboratorio e di uso, verso la società civile. Ecco, i ragazzi e le ragazze che già oggi nella scuola vanno verso il mondo, ritornano con queste esperienze, le lavorano su un piano più compiuto anche dal punto di vista teologico, che poi vanno verso il mondo, sono le persone che sono più contente, che vanno a studiare meglio da un lavoro, e che dall'altra parte sono portatori di sviluppo anche a livello locale e in generale capaci di essere nel futuro, nella loro vita e nella loro azione insieme agli altri. c'è molta diversità, mi pare che questo significa che a livello di programmazione elezionale, a livello di politica nazionale, noi dobbiamo sapere che questa vasta, significa che noi dobbiamo fare delle politiche centralistiche che dicono esattamente come avviene in questo mondo, questo è insensato, non funziona così. Funziona invece, in tutto il mondo funziona anche da noi, un'altra cosa, funziona il sostegno alle regioni, il sostegno alle economie locali, il sostegno alle autonomie scolastiche, quindi affinché poi sappiano meglio fare queste cose, con certamente una funzione certa, che è la funzione di indirizzo generale, sia dell'Europa che dell'Italia, quindi del governo nazionale, delle istituzioni nazionali, del ministero che io rappresento, e poi una funzione che vede i risultati, sempre attenzione in modo partecipativo con chi fa le cose, però vede quali risultati per fare tutte le protezioni che sono necessarie, rilevare pubblicità, sottolineare, ottimizzare, mobilizzare le risposte e i programmi e le esperienze, le pratiche, le cose, le cose che funziona, insomma. Voglio pensare che sia in questa direzione che l'alternanza e la sinergia tra scuola e lavoro possono avere e possono avere un futuro. La discussione su come fa il territorio per il territorio è un compito, diciamo, della politica, della buona politica, queste parole, e sicuro che voi state lavorando esattamente in questa direzione, che di nuovo esprimo, ne ho dispiacere di non poter essere con voi, ma credete che sono disponibili da venire in altre occasioni che sono molto, molto utenti da vostro lavoro. Buon lavoro e grazie. Grazie. Allora, abbiamo cinque minuti, se ci sono un paio di domande rapidissime, ma veramente domande, perché se facciamo interventi abbiamo lunghi, invece dobbiamo qua liberare la sala definitivamente. Prego, signora, se vediamo con il microfono, se non lo sentiamo, subito ci sono i microfoni. Allora, io, così, adesso sì, scusate, sono Daniele Casaccia, presidente del CIVI di Pescarci, di un'associazione professionale, centro di iniziativa democrafica degli insegnanti, di questo lavoro è stato buonissimo. Io non ho una domanda specifica, mi scusio, però mi sembrava opportuno evidenziare che da questa discussione, da questa discussione di questa sera, è venuta fuori una scuola come anello debole, ma perché dico questo? Faccio, io dire, sia da Gaetano Bonetta che da direttore Pellecchia, è venuta fuori una visione della scuola, non per loro responsabilità, come una scuola che non prepara, che non è aumentata la scuola. Ecco, allora io ritengo che iniziative di questo genere, in cui si riescano a mettere insieme visioni diverse della formazione, quindi del mondo del lavoro e del mondo della scuola, che abbia però alla base, queste visioni diverse abbiano però alla base un'idea di società, la quale l'idea di società può anche orientare un po' la scuola, perché non esiste un'idea di scuola a crescere, si sa che tipo di società nello grande, io credo che tutti i presenti, ma gli insegnanti qui presenti, nabitino in questo momento un po' nel non si sa che cosa fare, perché non gli chiari, nel caso di oggi, il che tipo di Italia o per il mondo romano, anche oggi vorrei come, insomma, domani sarebbe già un futuro osticabile, così che parliamo di oggi. Allora io ritengo che le misure europee di cui si è parlato questa sera siano in qualche modo importanti da assumere da parte sia delle imprese che da parte della scuola e dell'associazionismo a cui sono qui anche per questo momento. Proprio perché attraverso queste misure e questo contributo, probabilmente si riesce a disegnare un futuro per i giovani, dei quali credo stiamo parlando. Grazie, tra l'altro mi hanno fatto notare che il tavolo è tutto maschile, quindi la professoressa si è aiutato a colmare almeno in parte questa lacuna. Non vedo altre mani alzate, no? Per cui io ringrazio tutti, ringrazio tutti i relatori, grazie a voi che avete ascoltato pazientemente, perché è un tema di cui si ritrovano parlare molto anche in futuro. Buonasera. Grazie.